Sesto episodio della finale di Serie 2 tra Gardena e Milano con i Lombardi che arrivano al Pranives esaurito in ogni ordine di posto con oltre 2000 spettatori sugli spalti, avanti per 3 a 2 potendosi così giocare il primo match point. Ladini costretti dunque a vincere per prolungare la serie sino a gara 7 e provare così a non perdere la terza finale consecutiva del campionato cadetto tra i padroni di casa non si registrano defezione mentre i Lombardi alla caccia della promozione devono rinunciare al solo Migliavacca. Non passa nemmeno un minuto dall'ingaggio iniziale si vive già la prima emozione. Ciasma favorisce l'inserimento di Daniel Spinell il suo tocco è deviato da Benjamin Costner che crede di aver insaccato. Così non è però secondo gli arbitri che non convalidano anche dalla camera posta dietro la porta non si ha la certezza che il disco abbia varcato la linea. La risposta degli ospiti non si fa attendere con Clauda che smarca dalla parte opposta della pista Wunderer il cui diagonale è deviato da Grosskastiger. Ancora Milano pericoloso sottoporta poco dopo. Chance questa volta per Lopresti il quale viene murato da un grandissimo intervento da parte di Grosskastiger. Ospiti sugli scudi anche nella seconda metà del tempo. Questa volta Wunderer va a smarcare Clauda sottoporta ma nuovamente è il goli di casa ad avere la meglio riuscendo ad opporsi anche nella circostanza. Il Gardain si ripropone affidandosi a Thomas Spinell il quale si libera per la battuta con un diagonale alto che va a sbattere sulla traversa della porta difesa da Terrazzano. Sull'altro fronte immediata ripartenza sempre sull'asse Clauda Wunderer. La conclusione ravvicinata da attaccanti di scuola meranese non fa male a Grosskastiger. Alla fine sono i ladini a trovare la via del gol. Azione che vede protagonista Shah Asma il quale mette il disco sottoporta trovando la deviazione vincente di Benjamin Kostner il quale approfitta della poca attenzione della retroguardia avversaria per fare così centro. Al 18 e 25 il Gardain si porta allora a condurre e lo fa con Benjamin Kostner al suo quarto gol nel corso di questi playoff. La realizzazione decide di fatto la prima frazione con le due squadre che guadagnano gli spogliatoi sul punteggio di 1 a 0. In avvio di secondo periodo Clauda smarca Peter Wunderer ma il suo tiro viene ribattuto da Grosskastiger nella successiva mischia. Discussioni tra Manuel Lopresti e Daniel Spinel. Due minuti di panca puniti per l'attaccante milanese 2 più 2 invece per Spinel. Il Milano in situazione di power play va vicino al pareggio con Kimmo Piccarainen ma Grosskastiger si salva. Il gol dell'1 a 1 arriva al 27 e 32. Il primo tentativo di Ryan Constant servito da Clauda viene parato da Grosskastiger. L'azione dei Lombardi però non si esaurisce ed è ancora Constant a rendersi protagonista con una conclusione dalla blu che va a beffare la guardia del portiere avversario. Si tratta del dodicesimo. Si gira in campionato il quarto nei playoff per il terzino canadese. Questo gol vale l'1 a 1 al 27 e 32. Solo mezzo minuto più tardi Peruzzo smarca davanti alla porta Lopresti che però tira a lato. Al trentesimo sfortunato Lopresti l'attaccante di scuola meranese infatti va a centrare il palo alla sinistra di Florian Grosskastiger. Al trentaduesimo il passaggio di Constant per Peter Clauda in fuorigioco millimetrico. L'attaccante slovaco conclude poi in rete ma il gol viene annullato. L'ultima azione del secondo tempo è ancora dei Lombardi con Ansoldi in panca puniti. Edoardo Caletti scatta in inferiorità numerica in contropiede ma viene fermato dall'ennesimo intervento della serata di Grosskastiger. Dopo 40 minuti di gioco il risultato rimane così sull'1 a 1. Il terzo tempo si apre con il contropiede milanese condotto da Clauda e concluso da Wunderer che però non riesce a superare l'ottimo Grosskastiger. a 4 minuti dalla fine dei tempi regolamentari grande occasione per Peter Clauda di chiudere il match. Tiro di re poi Clauda sbaglia il facile tap in. Successivamente ci prova anche Tommaso Migliore che va a servire Caletti il quale si libera bene ma poi salva. nuovamente Grosskastiger. Nessuna novità nel punteggio al termine del terzo tempo con le squadre costrette così all'overtime. Il supplementare inizia con un ingaggio vinto da Caletti che si inserisce al centro ma viene fermato da una parata di Grosskastiger. La risposta dei padroni di casa è affidata ad un'incursione di Ciasma. Assist per Kevin Senoner che cicca davanti alla porta avversaria. I padroni di casa insistono e vanno ancora vicini al gol con Wallenberg che conquista il disco dietro la porta e serve Benjamin Costner fermato dalla parata di Terrazzano. Anche Kevin Senoner potrebbe chiudere la partita servito da Shah Asma si presenta solo davanti a Terrazzano il quale salva miracolosamente. Dopo il primo overtime il risultato è sempre inchiodato sull'1 a 1. È il secondo tempo supplementare a segnare così la contesa al 92.12. L'episodio che decide non solo la partita ma l'intero campionato. Tommaso Migliore infatti trova la strada giusta che porta al 2 a 1. Gol che vale il titolo per il Milano. 24 anni fa ad Ortisei il papà di Tommaso Migliore Ico battendo proprio il Gardena 3 a 1 conquistò come capitano la promozione in Serie A. Ora la storia si ripete con Tommaso capitano che porta i Lombardi dopo 4 anni di purgatorio nel massimo campionato italiano. Festa grande allora per il Milano sorretto come di consueto dal suo pubblico numeroso e caloroso. Delusione invece in casa Ladina. I ragazzi di Kostner si sono battuti contro pronostico sino all'ultimo rendendo entusiasmante il finale di stagione. Il Milano abbraccia il titolo e va ad alzare una coppa che vuol dire promozione in Serie A.